Federica Pellegrini Gianluca Falletta E momenti topici della vita della campionessa. Una volta tornata al suo posto tra i giudici, Federica Pellegrini ha avuto l'opportunità di rivedere lo spettacolo al quale si era prestata senza poter comprendere quanto stesse accadendo. Solo dopo aver rivisto la registrazione sono arrivate le lacrime di commozione della campionessa non immaginavo una cosa del genere, ha detto all'artista e ai suoi colleghi giudici. Una reazione, quale di Federica, che ha contribuito ad accrescere l'emozione del momento. Anche Mara Maionchi è apparsa particolarmente toccata, e Frank Matano è corso ad abbracciare la Pellegrini ora che ho conosciuto Federica e sono veramente orgoglioso di essere rappresentato da lei all'estero. È veramente una campionessa anche dietro le quinte, è veramente una grande. Quindi grazie per averci ricordato queste cose. Grazie per aver guardato il video.